Per una bolletta pagata in ritardo di 20 giorni, ma comunque pagata, le hanno staccato senza preavviso l'energia elettrica. È accaduto a Manuela Teani, che gestisce il negozio di parrucchiere Natural Fashion a nave sulla via Sarzanese. Adesso Manuela, nei giorni precedenti Pasqua, uno dei periodi di lavoro migliori dell'anno, va avanti solo con un generatore noleggiato al volo, senza però poter utilizzare appieno la rete elettrica. La parrucchiera è da sei anni con Enel Energia Mercato Libero, che per chiarire non è la stessa cosa dell'Enel Servizio Elettrico, anche se Manuela, al momento della stipula del contratto, non se ne è resa conto, come è capitato a molte persone negli ultimi anni. All'inizio del 2015 la parrucchiera ha pagato una bolletta in ritardo, la scadenza è il 26 gennaio, il pagamento del 16 febbraio. All'Enel non risulta il pagamento e Manuela manda un fax con la ricevuta. Tutto risolto? No. Il giovedì santo arriva un incaricato che in maniera perentoria chiede alla parrucchiera di seguirlo sul retro, fino al contatore. E nel mentre che era lì ha attaccato un macchinario, senza dirmi niente, e nel momento che stava scaricandomi i watt, mi dice guarda le sto togliendo i kilowatt. A quel punto sono andata nel panico, sono venuta a chiamare l'Enel, questo se ne è andato, e l'Enel mi dice appunto che non avevo pagato la bolletta. Non era arrivato neanche il fax. Rimando il fax, richiamo, loro mi dicono che ci vuole i tempi tecnici. Io tutta la mattina sono stata senza corrente a mandare via la gente bagnata, la gente che protestava, a disperarmi, a cercare un elettricista che mi venisse di giovedì santo. Ce l'ho fatta fortunatamente a trovarlo a Luna. Ho chiamato anche i carabinieri ma non ci potevano fare niente. Loro, i vari solleciti all'Enel, non facevano niente, mi hanno messo un generatore, mi costa una cifra di soldi di benzina, e devo lavorare a bassa tensione. Quindi al buio, meno male, sono belle giornate, non so domani come sarà, che c'ho da lavorare. La parrucchiera ha chiesto la riattivazione dell'energia, ma fino adesso senza successo. Rimane l'amarezza e la rabbia per quanto accaduto. Io sono disperata. Il mio poco guadagno che potevo avere in questi giorni di festa mi va nella benzina. E poi ora dover pagare un avvocato, che poi speriamo con le leggi italiane, di poter risolvere qualcosa e di essere risarcita dei danni subiti, anche morali. Perché a questo punto anche morali.